Questa iniziativa è perché il nostro gruppo è presente da tanti anni sul territorio e il GP Deco ha sempre avuto cura che le sue soluzioni di comunicazione siano perfettamente integrate in armonia con il contesto urbano. Pertanto abbiamo deciso di lanciare questa campagna, Segnali d'Italia, per raccontare storie, storie vere, messaggi positivi di persone che a Napoli, così come abbiamo fatto a Parma, in alcuni casi sono diventate delle eccellenze per il territorio. Non sono storie di industria o di casi eccezionali, ma storie proprio di gruppi dove l'entusiasmo, la passione e il valore hanno creato poi casi di eccellenza. Con questa campagna vogliamo creare un passaparola virtuoso perché i cittadini attraverso gli strumenti che abbiamo messo in campagna, il sito e Instagram, l'ASTAG, Segnali d'Italia, vogliamo che i cittadini condividano attraverso l'invio di fotografie altre storie di positività.